saio ragazzi bentornati sul canale siamo in un nuovo video sempre nel nostro villaggio sottomarino che dobbiamo continuare a finire perché insomma è rimasto così un attimino monco porello quindi adesso metto a posto un po di roba faccio spariste chest con un botto di cose e vediamo come finirlo oggi spero ci provo lo voglio finire totalmente quindi metteremo abbelliremo le strade metteremo degli oggetti utili qui in mezzo vedremo se fa una fontana una piazzola qua non lo so ancora l'interno delle case qualcosina anche la faremo insomma ci avremo un villaggio a tutti gli effetti intanto i nostri nano villager qua ce ne stanno due tre piccoli due grandi diciamo che come villaggio non ci possiamo lamentare allora levo tutto sto casino di roba che c'ho qua e ci vediamo tra un po ok signori ho spostato tutta sta robetta qua in questa casa momentaneamente così abbiamo bene o male i blocchi che ci servono iniziamo a scegliere da dove incominciare la nostra sistemazione del villaggio allora io sinceramente inizierei decidendo se fare una fontana qua al centro oppure farci qualche altra cosa in modo che una volta che abbiamo deciso come il centro del villaggio possiamo fare tutto il resto come lo facciamo bella domanda qua intanto ci va assolutamente un blocco di moss ecco qua molto meglio ok allora intanto la fare più piccola almeno di un blocco perché non è che mi serva tantissimo aveva fontana gigante è giusto per abbellire quindi farla così mi sembra un attimino troppo grande e poi la farei ovviamente vediamo con degli stone brick potrei farla oppure potrei farla sfruttando le foglie c'è ancora delle foglie da qualche parte chi si ricorda non ce l'ho ma le posso prendere però iniziamo a provare con gli stone brick questi qua secondo me potrebbero essere utili quindi proviamo con dei gradini intanto facciamo una roba che potrebbe essere carina così ok in questo modo qua vediamo se ci sto si ci sto azzeccando ci sto azzeccando tantissimo ok poi così così non è vero mai ok devo rompere questo fare così e poi così vediamo se non è mai venuta giusta perché ho iniziato troppo tardi qua ok mi sono sbagliato quindi qua rientriamo così qua ce ne andiamo così ok poi qua rientriamo così e in teoria ok già è meglio vediamo se è giusta mi sembra giusta perfetto ovviamente il centro è pari e questa è una rottura di balle lo sappiamo tutti purtroppo però per farla piccola devo fare per forza così allora qua ci potremmo mettere una fonte d'acqua infinita nel mentre e qui sotto ci vorrei mettere qualche blocco luminoso che al momento non ho però in teoria sopra c'ho la luminite quindi vado a prendere un po di quelli ok non la trovo più potrei fare delle red si quelle mi piacciono un sacco facciamo delle redstone lamp che sono sempre molto fighe per fare redstone lamp ci servono queste se non mi ricordo male si fanno così e poi ci serve la redstone sempre se non mi ricordo male vediamo se ci riusciamo in teoria era una roba del genere si potrebbe essere tantissimo che facciamone per il momento 4 tanto per vedere come vengono poi ci facciamo ovviamente di stichettini da qualche parte li devo tenere per forza eccoli qua e facciamo delle torce di redstone e iniziamo a mettere queste qua in quella fontana vediamo come viene allora potrei mettere una qua una qua una qua e una qua secondo me ci sta quindi qua sotto ci mettiamo delle torce di redstone così e qua ci mettiamo le nostre redstone lamp ok questo l'abbiamo fatto il fondo della piscina lo farei in bella domanda pietra liscia perché no anzi quasi quasi uso l'andesite che ce l'ho sempre non la uso mai levati un attimo dalle balle tutti l'andesite ok perfetto mi servirebbe una pozzetta d'acqua infinita che ce la facciamo al volo qua tanto i secchi ce li ho uno qua e uno qua perfetto iniziamo a riempi sta cosa che in teoria si dovrebbe riempirsi con le nuove modifiche che hanno fatto se non mi ricordo male la tecnica è sempre la stessa andiamo a mettere lungo i bordi e chi se ne frega ok è venuto perfetto quindi qua possiamo togliere sti blocchi a sto punto io li lascerei non lo so questa chiaramente la sfasciamo però magari andava fatta un po più in alto si l'alzo di un blocco e intanto signori è spuntato anche l'iron golem ma attenzione ma buongiorno avevo detto che spuntava ma perché stanno tutti quanti qua dentro mica ho capito io ah perché ci stanno sti blocchi che loro li vedono i blocchi lavoro giustamente ho fatto un affollamento esagerato qua dentro vabbè non è un problema continuo ad alzare sta fontanella di un blocco eh lo so la devo rifare purtroppo quando è rincoglionito è rincoglionito ma ero scordato che le fontane effettivamente vanno fatte un po più rialzate altrimenti sembra solamente un buco d'acqua in mezzo al pavimento a sto punto visto che la devo rifare la faccio dispari al centro così posso fare cose più carine ok la ristudio un attimo ecco qua l'ho fatta molto più piccolina mi piace tanto per quello che serve va più che bene mi devo rifare la pozza d'acqua infinita e va bene uno qua e uno qua e riandiamo signori ok dovrebbe essere fatta a sto punto le quattro redstone lamp le metto sempre qui quindi un buco qua uno qua uno qua e uno qua perfetto deve essere velocissimo a metterle perché mi sono scordato di mettere avrei prima dovuto mettere le torce poi l'acqua ma non è un problema ecco quasi fai velocissimo ce la fai eh velocissimissimo ok illuminazione ce l'abbiamo e a sto punto finalmente possiamo sfruttare pure il centro allora mi servirebbero dei wall intanto devo distruggere sta cosa mi servono degli stone brick walls allora dove c'ho una crafting table l'ho messa qua dentro da qualche parte sicuramente eccola qua a sto punto la metto sempre qua così uso sempre questo parte che qua c'ho pure lo stone cutter mettiamo pure questo qua ecco giusto 5 per vedere come viene ok ci può stare e ragazzi è tutta una cosa creativa eh attenzione che non ce l'ho un modello già belle fatto ok proviamo in questo modo qua e poi ci metto una secchiata d'acqua sopra una cosa semplice vediamo se viene bene in teoria dovrebbe venire carina niente di particolare però controlliamo ok non è che mi dispiaccia sai caruccia ci sta perfetto abbiamo una fontanella al centro del villaggio quindi mo possiamo iniziare a sistemare il resto questi li togliamo li sostituiamo con la terra così facciamo i sentieri ok e vai prepotentemente di terra anche se ripensandoci bene forse se ci faccio se ci metto degli slab tutto intorno viene più caruccia quindi mi prendo questi che già ce li avevo ma non è un problema copro intanto questo contorno quadro metterò tutti slab e poi il resto ci metto la terra non è vero sotto gli slab non ci posso mettere la cobblestone perché fa questo effetto schifoso quindi ci devo sempre mettere degli stone brick e vabbè mettiamo degli stone brick sarà sempre gli slab così risparmio ok magari in questi laterali qua ci metto delle torce così secondo me ci stanno pure bene no delle lanterne ecco vediamo non è male l'effetto carino ok abbiamo una fontanella va bene va benissimo certo però magari l'effetto che arriva direttamente dall'alto era più figo ok proviamoci quindi tolgo questa secchiata d'acqua qua e la devo mettere esattamente sopra dovrebbe essere questo vediamo no così fa cagare doveva scendere dritto perché non scende dritto non lo so a sto punto potrei mettere una secchiata d'acqua qua e qua su leviamo questo ci mettiamo un altro di questo proviamo così non è che mi convinca tantissimo eh no meglio così dai ok signori il centro del villaggio l'abbiamo fatto abbiamo messo sta fontanella con delle lampade che va bene potenzialmente abbiamo una sorgente d'acqua infinita qua sotto sì ottimo adesso iniziamo a fare il lavoro serio cioè mettere un po di roba interessante in questo villaggio intanto diamo questi così finiamo di fare il percorso vediamo come verrebbe mettere un po di erbetta qua non così ovviamente togliamo sta roba qua sotto altrimenti fa schifo ok potrebbe andare ora mi serve un'illuminazione decente per questo villaggio perché al momento tutte ste torce per terra fanno abbastanza cagare diciamoci la verità quindi per fare un'illuminazione decente mi servono dei lampioni decenti avevo pure pensato di far scendere delle catene da lì però poi veniva un casino ma cos'è un gatto ma hai sponato pure un gatto che figata cioè ragazzi è proprio un villaggio questo villaggio ormai è è stato promosso a villaggio reale di minecraft spuntano pure i gatti cioè voglio dire che cazzo volete di più tanto qua stanno sponando gatti come se non ci fossero domani va bene sto provando un po di design il problema è che dobbiamo illuminare bene solo che qualsiasi cosa metti che sia diverso dal semplice sticchettino con sopra la torcia qua la lanterna viene troppo grande cioè questo qua enorme cioè non è enorme però per illuminare bene li devo mettere da un sacco di parte sti cagatori assurdi e non mi piace come cosa come si può risolvere questa faccenda non ne ho idea intanto provo vediamo quello che succede allora io ne dovrei mettere uno qua ma non così uno qua e magari uno qua fin qua tutto a posto ecco vedrebbe una cosa del genere questo non ho idea del perché sia qua è la stessa cosa dovrei fare qua ma non è che mi piace non mi convince per niente questa cosa allora intanto sicuramente dove stanno le le case io mettere le torce così molto semplicemente quindi leviamo queste iniziamo a fare illuminazione vicino le case e qua è carino perché comunque si attaccano direttamente a sti slab quindi non è per niente male come cosa ogni casa c'è la sua illuminazione proprietaria sembra anche giusto e metto un altro qua così almeno le casette vengono illuminate devo stare attento a non andare ammazzata a questo tipo altrimenti alla fine cioè ci facciamo malissimo questa magari più grande ce ne metto pure un'altra mi sembra anche giusto qua leviamo iniziamo a togliere torce e vediamo quello che succede spero che non mi sponi gente ma in teoria non dovrebbe un'altra va messa sicuramente qua questa la togliamo questa non è luminosissimo me ne rendo conto però poi sistemiamo in qualche modo ok quelle torce lassù fan cagare me ne rendo conto tanto la le togliamo anzi prima di fare i lampioni facciamo i cammini che giustamente ci metto un bel campfire la sopra fa pure luce e fa un effetto caluccio come si fa il campfire e chi cazzo la si ricorda vediamo qua che mi dice la nostra crafting table fantastica camp è tua sorella can fa eccolo qua come si fa è semplicissimo e oddio mica tanto mi serve comunque dei dei log vabbè vabbè investiremo il log che vedevo di log ce ne abbiamo usiamo i log il carbone da qualche parte l'ho buttato eccolo qua ok facciamo il campfire 1 mi ricordo quante case ciò comunque l'ho fatti un bel po ok andiamo rampichiamoci sopra una casa eccoci qua e mettiamoci il suo caminetto muo mi servirebbero delle trapdoor di spruce che non mi sono fatto e che palle ma io lo spruce l'ho finito come so le trapdoor dovrebbero essere così vabbè devo andare a fare un altro po di legno vengo subito in teoria c'è ancora quell'alberello lì fuori se non mi ricordo male quindi magari unisco l'utile al direttevole me lo tolgo dalle balle faccio pure legno non è vero l'avevo già tolto e che palle ok ci ripariamo pure questa che male non facciamo magari ci ripariamo pure questa ok direi che siamo perfetti ok signori rimettiamo i nostri alberelli qua e direi che possiamo andare pure fatto da mangiare ho fatto un po di roba ok qua intanto questi sono affancasino esagerato dovrei avere tutto andiamo allora qua dovrei fare una roba del genere poi la trapdoor va messa più o meno qua non qua ok vediamo da lontano se fa schifo no è carino è carino ok facciamola tutte quante così tolgo pure quelle torcia quella torcia non l'ho tolta infatti su questi blocchi comunque c'è una luce di 11 12 10 ok siamo a postissimo signori possiamo procedere con il camminazione l'incaminazione insomma mettiamo cammino tutte le parti il cammino qua lo metterei ma sì in questo punto perché no ok la luce c'è 9 10 12 8 sì c'è 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 perfetto stessa cosa pure qua la mettiamo esattamente in questo punto così bellissimo qua risparmiamo pure delle trapdoor che schifo non ci fa e andiamo ok ovviamente questi avranno il cammino acceso d'inverno d'estate perché loro sono freddolosi ragazzi cioè i villager sono così o inverno estate comunque c'hanno il cammino acceso poverelli questo lo metto proprio qua che è la morte sua perfetto non ci sono torce va benissimo così e andiamo pure quassù questo sarei quasi quasi tentato di metterlo proprio qua in bella vista ok ma qua è un po' rognosa la situazione non è vero ce la siamo cavata con poco ok questi c'hanno tutti quanti ma la che cazzo l'ho fatto hanno quello è normale che sia così c'hanno tutti il loro cammino tranne questa ok diciamo che potrebbe andare abbiamo già eliminato un bel po di torce e l'illuminazione resta quindi ora dobbiamo affrontare il discorso lampioni signori e io a sto punto tornerei sulle strade piccole con questi quindi facciamo una roba del genere quindi nelle stradine piccoline come questa qua ci mettiamo questi lampioncini piccoli che non sono male quella principale ci avrà dei lampioni più grandi quindi qua faremo la stessa cosa un lampioncino qua ok andiamo da quest'altro lato qua pure ci metterei un lampioncino qui un lampioncino qua nell'angolo lo metterò qua qui magari ce ne mettiamo uno tanto per illuminare controlliamo la luminosità ma comunque c'è 6 allora già così che insomma non è che ci siano chissà quanti lampioni comunque la luminosità c'è non dovrebbero sponare mob poi controlliamo piano piano adesso arriva di momento di mettere i lampioni quelli più grandi e quelli rimettiamo lungo la strada principale la non si scappa signori oddio però voglio di alla fine non è che facciano schifo si lampionetto sapevo che tornavo sui lampionetti ragazzi era era ovvio potrei anche lasciarci questi ripensandoci qua vabbè qua forse la situazione diventa drammatica oddio nemmeno tanto però comunque un lampioncino ce lo metterei andiamoci a fare un altro po di sti di ste fans ah no ce l'ho le fans meglio ok possiamo mettere fans a tutte le parti tipo io qua una fans ce la metterei tranquillamente così illuminiamo poi vediamo qua è abbastanza illuminato qua sicuramente ce ne mettiamo una qui un'altra la possiamo mettere non esattamente in modo simmetrico quindi le mettiamo un po come si di come dicevano i latini ad capocchiam che secondo me ci sta benissimo ecco qua questa la togliamo questa vogliamo in teoria così non è luminosissimo però sicuramente non dovrebbe esponare nessuno magari ne mettere in altra qua tanto per avercela ok poi non lo so se farle simmetriche però per il momento mi mi piacciono così ok vediamo sto pillarone che me l'ho completamente scordato e adesso iniziamo a dare un senso questo villaggio allora intanto facciamo la casa del fattore con il suo orticello secondo me la casa del fattore si chiama fattore non fattone fattore potremmo farla pure qua volendo quindi qua facciamo una roba di questo tipo una cosa piccola è puramente estetica la situazione perfetto qua dentro io potrei fare una roba di questo tipo in modo che lui possa accedere qua magari sti cosi li togliamo ho finito lo spazio inventario come al solare questi stanno a dormire ce ne frega niente qua sicuramente ci va della terra quindi leviamo queste cose così ci mettiamo un bel po di terra magari con una pozzetta d'acqua da qualche parte tipo qua ecco però questa parte così fa schifo quindi dovremmo aggiustare e signori anche l'occhio vuole la sua parte qua sotto ce metto della terra sto affondando tutti sì perfetto è questo orticello lo possiamo tranquillamente coltivare con che cosa c'è per coltivare un cacchio giustamente qui chiaramente ci perdiamo la finestra potrebbe essere un problema e poi mi serve un'altra porta assolutamente dove sta la mia casa eccola lì ok di porte ce n'ho ancora un botto quindi leviamoci un po di blocchi che per il momento non ci servono ci prendiamo questa e ci prendiamo anche dove sta il composter da qualche parte ci sarà un composter o soccecato l'ho lasciato su va bene non è un problema ovviamente visto che qua c'è l'orticello io un'altra tanto per mettercela ce la metterei è così no forse troppo bassa mettiamola più in alto una cosa così magari con una catena potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea ok questo già sta andando qua ti sei fregato non ti sei fregato la torcia allora andiamo a prendere il composter prendiamo pure un po di grano da dove cazzo ora si esce ok in modo che facciamo una zona carina allora questo mi servirà magari mi servirà anche questo allora il grano sicuramente ce l'ho lì fuori non è tantissimo però almeno c'è ecco magari mi faccio un'altra zona insomma espando la zona di coltivazione eh se la mia zappetta regge si è rotta la zappetta e vabbè vaffanculo ok stanno sponando dei gatti anche nella base perfetto questo lo mettiamo qua e ci sta tantissimo poi devo chiudere quel buco ce l'ho della cobblestone no allora signori io vedo che il mio villaggio si sta popolando tantissimo cioè ce ne sono troppi di villager porca zozza sta succedendo un casino qua ok forse mi sono fatto scappare la cosa di mano ok abbiamo messo un po di covoni quello sta apposto così la io ci metterei assolutamente così e diciamo che in teoria dovrebbe esserci forse devo aver messo troppi letti uno due tre quattro cioè quello in teoria i villager nascono se hanno un posto cinque dove dormire sei stanno qua ne ho messi troppi qua ce ne sono altre sono sette quindi in teoria ci dovrebbero essere esattamente nove villager in questo villaggio ho messo troppi letti e va bene vediamo se riesco a fare una cosa più carina qua sotto secondo me ci sta ok è un po più chiaruccio di prima sì questo vorrebbe coltivare ma tu non c'è un cacchio da coltivare che cosa ti faccio coltivare non c'ho niente manco io ti darò del grano perché no poi gli do dei semetti questo è sempre un blocco da da lavoro non lo so mi sa che non gliene frega un cacchio allora poi in teoria vediamo se ci riesco a fare sta cosa eh non mi ricordo ma doveva essere più o meno una roba del genere allora metti questo qua così poi questo qua lo dovresti mettere più o meno così perfetto e con un cancelletto che non ho il momento da fare dovremmo fare una carriola ok più o meno così eh sembra una carriola sì poi qua dentro ci andrebbe qualcosa ma non so che ci va però ci sta magari qua intorno potrei mettere della terra un po così a casaccio e l'alterno con sti blocchi ok ci dice un senso allora io direi che la casa del fattore del contadino insomma di quello che coltiva la roba l'abbiamo fatta ci sta ma sapete quasi quasi aggiungerei una casa là che questo posto mi sembra abbastanza vuoto ci aggiungo un'altra casa qua secondo me c'ha senso allora casa questi ce li abbiamo sì quindi iniziamo con vediamo un po dove farlo la facciamo partire da qua una casa piccolina 123 e finisce più o meno qua 123 proprio piccola easy quindi facciamo abbiamo già fatto 123 dovrebbe essere lì perfetto qua facciamo così a sto punto sto lampioncino da qua lo togliamo perché tanto ci sarà l'illuminazione della casa degli slab ce n'ho ancora sì da qualche parte intanto qua facciamo l'ingresso fatemi mettere due torce che il tempo che va lontano qua succede un casino mettiamoci anche il pavimento le porte non ce le ho le vado a prendere gli slab ce li abbiamo degli scalini non mi servivano mi servivano questi ok dovremmo avere tutto c'ho un altro campfire sì queste ce l'ho abbiamo tutto raga possiamo fare un'altra casarella facciamo così andiamoci a mettere non questo cosa cazzo la sto facendo ma questo uno qua uno qua uno qua non era lì che andava mi sono sbagliato qua perfetto nell'angoletto e qua ce ne mettiamo pure un altro perché no bella porticina qua qua leviamo tutto ci mettiamo la nostra bella terra ci facciamo pure il sentiero giustamente ok ma io qua un lampioncino anche se non servirebbe ce lo metto lo stesso ok un po di vetro un letto e siamo a posto ecco qua mettiamo il letto qua finestriamo il tutto ho fregato il letto a questo non ho aggiunto un altro letto perché basta coletti questi stanno esagerato allora qua mettiamo i soliti due giri di di scalette e qua ci andiamo a mettere uno slab veramente due slab uno lo devo toglie e qua ci facciamo il caminetto non è vero che lo devo togliere lo devo mettere uno slab ok le trap door ce l'ho quindi una qua non è vero mai una qua dicevo una qua e un'altra qua e un'altra casetta ce l'abbiamo aggiunta perché questo posto era troppo vuoto obiettivamente vediamo che effetto che fa si dai ci stava quella casetta ci doveva andare per forza a e giustamente non può mancare mai questo è signori questo non deve mai mancare perché altrimenti la casetta non sembra più una casetta così bellissimo io qua ce ne mettere in altro molto carina dai ci sta allora a questo punto facciamo altre case cioè abbelliamo altre casette la casa del fattore ce l'abbiamo questa qua in che la trasformiamo non lo so dove dei quali si blocchi valore lavoro perché non me li ricordo allora ho visto i blocchi lavoro iniziamo a fare l'armor ed che si fa con la blast for nice che io sopra sicuramente c'ho non è vero non ce l'ho vabbè la facciamo al volo allora io l'armaiolo lo metterei proprio qua dentro quasi quasi gli metto una bella blast for nice qua dentro così e lui magicamente dovrebbe prendere il lavoro allora per questo volevo fare una cosa un po più particolare poi qua fuori visto che questo è un armaiolo dovrebbe essere quello che fa le armature ci metterei pure un manichino perché no secondo me ci sta poi devo fare il manichino è devo fare un sacco di roba intanto signori sono spuntati due iron golem questi si stanno riproducendo come dei pazzi speriamo che non mi in teoria non dovrebbe intaccare la mia farm di ferro ma vediamo facciamo subito la prova ok vediamo se arriva qualcosa nel mentre sì 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 ok non me l'ha intaccata sono appena arrivati di lingotti quindi la mia farm di ferro funziona ancora alla grandissima e ne siamo contenti allora mi serve un manichino armor qualcosa armor stand armor stand non cazzo aspetta il manichino si faceva con questi mi pare vediamo se mi dà una ricetta eccolo qua l'armor stand armor ecco di qua ciccio dammi un manichino non c'ho spazio manco per piange porca zozza aspettate ragazzi qua c'è un sto carico di roba allora facciamoci una bella armatura di ferro al volo tanto il ferro voglio dire non è assolutamente un problema 32 mi basta non mi ricordo mica questa cesta questa cesta questa l'abbiamo fatta e dei piedini l'armatura ce l'abbiamo posiamo il ferro che al momento non ci serve e andiamo a piazzare star more stand o la io lo piazzerei vediamo fatemi fatemi scegliere il post ma secondo me qua ci sta bene messo proprio qua così 2 3 e 4 allora secondo me un altro che mi potrebbe servire il clerico e basta mettergli l'alambicco il clerico dove andiamo a mettere intanto vediamo che c'è un alambicco non ce l'abbiamo andiamo a prendere un alambicco mi ricordo che ce l'ho da qualche parte eccolo qua l'alambicco mi ricordavo perché quello che l'alambicco ti dà pure la mi ricordo più come si chiama col blocco luminoso la luminite che potrebbe essere una cosa carina allora secondo me signori questa è la morte sua cioè questa casa è perfetta per l'alambiccaio come si chiama il clerico ma ero sbagliato allora facciamo qualcosa che potrebbe essere utile qua dentro tipo vabbè per il momento gli interni della casa non è che mi ci uccido più di tanto poi li sistemiamo li facciamo carini mettiamo l'alambicco qua e sistemiamo anche il fuori di questa casa allora il tipo dell'alambicco diciamo che fa la luminite va prendiamo questo blocco di riferimento quindi potrei mettere fuori casa sua un po di blocchi di illuminite tanto ce li ho e quindi ce lo possiamo pure fa potrei togliere questo fare una roba del genere ok qua ne mettiamo un altro così e ne mettiamo un altro qua per terra per il momento va bene così qua dentro ci sarà il nostro clerico magari ci mettiamo pure una campana che al momento non c'ho ce l'ho su però la campana mi serve per fare un'altra cosa ragazzi allora un altro villager che io voglio assolutamente il cartografo perché non mi ricordo bene ma qualcosa forse ti dà le mappe del tesoro però è figo avere un cartografo a portata di mano quindi per il cartografo dovremmo prendere quel tavolo il tavolo del cartografo appunto dove cazzo la ce l'ho mi ricordo benissimo che ce l'ho da qualche parte eccolo qua il banco del cartografo il cartografo ti dà pure gli temps frame non so cosa metterci fuori casa sua però intanto gli do il blocco io potrei fare questo la casa del cartografo cosa ci mettiamo fuori per far capire che un cartografo un cartografo se ci metto le barche poi questi si impiccano nelle barche il cartografo i viaggi che mi qualcosa di esotico potrei metterci un laghetto qua fuori cartografo le carte la navigazione potrei metterci un piccolo laghetto qua fuori dove non lo so in teoria una roba proprio pisi piccola tipo così qua della sabbia così si capisce che è un laghetto e 22 cane da zucchero potrebbe avere un senso quello che sto dicendo ma in teoria si ok mettiamoci un po d'acqua dove c'è la roba di qua prendiamoci l'acqua da qua dentro e facciamo una pozzetta d'acqua infinita velocemente vediamo se riesco a farlo in quest'angolino non l'ho fatta devo andare per forza alla fontana e lo so avvicina ma mi rompevo le balle lo stesso mese fatta la pozzetta d'acqua infinita mettiamo pure lì qua ci mettiamo della sabbia che non ho so fa più giri avanti indietro cioè voglio dire è però purtroppo mi piace tutta roba giù devo per forza fa sali e scendi è una rottura di palle me ne rendo conto ce l'avevo un po di sabbia qua in mezzo no forse ce l'ho qua ho usato tutta la sabbia per fare il vetro non mi è rimasto un blocco di sabbia manca a pagarlo ma non ci sto credendo dai cioè ragazzi devo uscire per prendermi un po di sabbia che rottura di balle guarda io mi prendo questa che me frega sta qua sotto bella tranquilla ce la prendiamo tanto sta sotto la base è fattibile è fattibile magari non moriamo possibilmente ok è stato più rapido del previsto andiamo a piazzare la sabbia allora questa cosa me la dovete spiegare tantissimo io sono morto scendendo nella mia pozza d'acqua come cazzo cioè non ho parole non ho parole veramente forse mi sono spostato non lo so però sono morto vabbè non è un problema però che palle cioè sono morto lì vi faccio vedere perché è roba da non crederci non lo so si è buggato qualcosa è la prima volta che mi capita di morire così cioè sono morto qua cosa cazzo stiamo parlando va bene non è un problema ok eppure il cartografo ce l'abbiamo e l'abbiamo sistemato mo facciamo la casa del libraio giustamente dove la facciamo la casa del libraio secondo me qua ci sta tantissimo anche perché lo voglio a portata di mano appena arrivo quindi qua dentro per il momento ci metterò questo molto rapidamente e in teoria lui dovrebbe venire vicino al suo blocco lavoro e qua fuori ci andranno dei libri libri che per il momento non ci posso mettere assolutamente perché non ce li ho ancora però per dare l'idea della libreria io qua per terra vediamo come potrebbe venire magari usiamo gli slab così non ci uccidiamo io ci metterei dei blocchi di legno se il mio amico me li fa mettere ecco sbagliato non lo so mi dà l'idea di una libreria e legno quindi secondo me ci potrebbe pure sta ho appena fatto fuori una cosa che non dovevo fa fuori sto fan casino per fortuna che ce l'ho ancora ste cose ok secondo me c'ha senso poi ci mettiamo le librerie così si capisce che casa sua e gli diam pure la casa grande perché alla fine è l'unico villager che mi serve fondamentalmente è lui quello che serve con mending bravissimo ragazzo bravissimo tu sai che sei figo restano due case a cui assegnare i lavori allora uno vabbè questo è cos'è il pescivente non mi ricordo il fisherman il pescatore beh anche il pescatore però avrebbe senso dai un laghetto allora un altro utile potrebbe essere il mesono che è quello che prende il lavoro dallo stone cutter mi potrebbe essere utile perché ho visto che ti dà della carne quindi lo possiamo usare per mangiare non è una brutta cosa qua ovviamente vabbè come ho detto prima internamente poi sistemiamo dopo quindi lo mettiamo lì e come lo facciamo capire questa casa è del mason vediamo un po non lo so però ho pensato che l'armaiolo quasi quasi io dei blocchi di ferro ce li metto secondo me ci sta tantissimo tanto voglio dire ferro ne abbiamo quanti quanto ne volete proprio non c'è non c'è proprio limite al ferro blocchi di ferro se facevano così sì ho sette blocchi di ferro senza esagerare il mese un po ci penso eccolo qua dei blocchi di ferro messi qua e là secondo me potrebbero andare bene così bellissimo secondo me ci sta tantissimo questa cosa ma lo mettiamo pure qua forse qua fa cagare tantissimo ecco così potrebbe essere fa cagare lo stesso qua qua è meglio allora ora devo mettere la campana perché questo villaggio non ancora una campana quindi ci ci mettiamo anche la campana con una costruzione carina ecco che la campana ce l'avevo me lo ricordavo troppo bene allora la campana la potremmo mettere qua vediamo come farla allora facciamo qua io farei una roba di questo tipo 1 2 così poi qua ci metterei un gradino in questo modo qua se ce la faccio non ce la faccio vabbè facciamo così ok così perfetto poi ce l'ho ancora una botola si ce l'ho ancora una botola benissimo qua ci metterei una botola in questo modo qua così questo lo togliamo questo l'ho visto online chiaramente questo sta robetta questo mettiamo così qua ci mettiamo la campana e poi qua sotto ci andrebbe un bar la cosa che non manca in questo villaggio sono i bar ce l'ho un bar della porta di mano non ce l'ho me lo prendo da qua ok abbiamo recuperato il bar e le intanto ho anche visto che qua c'è delle carote a sto punto io a questi tipi qua gli farei fa delle carote indostare il mio contadino qua quindi se io pianto una carota qua ma cito guarda gli faccio pure fare le patate chi se ne frega ok è così dovrebbe continuare da solo allora questo l'abbiamo messo l'ho messa la campana non mi ricordo più qua perfetto sbagliato tantissimo ovviamente questo l'ho messo così e qua per terra che cosa ci possiamo mettere un po di pietre strane quindi rompiamo un po questo qua in modo abbastanza casuale andiamo a mettere un po di gravel sparpagliata a quella e l'alterniamo con qualche altro blocco che non ho ancora idea di quale possa essere ok che altro blocco ci mettiamo la stone no non mi piace la storia andesite forse va bene insieme alla grave perché sono molto simili proviamo questa che cos'è andesite che infatti va molto bene ok poi abbiamo la nostra campanina perfetto si svegliano tutti c'è un bordello ora ci provo no perché se la faccio qua questo mi fa un casino qua devo mettere terra ragà purtroppo per mettere un po di erbetta o me la prendo con silta c'è poi la piazzo perché mi piacerebbe mettere un po di erbetta solo che se metto l'erbetta qua tutta sta roba diventa muschio è il muschio è stata una scelta non proprio facilissima non proprio felicissima infatti qua dovrei mettere la terra allora io metto terra tutte le parti levo il muschio è in accisa lo so lo so tantissimo però purtroppo mi tocca perché come ho detto il muschio lo metto sui laterali in modo che rimane tutto verde e per terra è meglio la terra ce l'ho della terra molto poca terra signori molto poca terra questa è terra qua c'è un cacchio devo andarmi a prendere un bel po di terra signori vabbè tanto con la nostra pala non ci mettiamo nulla però magari dormo va bene signori andiamo a prendere della terra che una volta messa la terra con un po di bomb il il villaggio praticamente è momentaneamente finito allora me la prendo la terra a cosa posso togliere qua non mi piace qua non mi piace e mi allontano allora questa montagne la sicuramente non la voglio di fronte la base quindi posso iniziare a prendermi qua ok abbiamo preso un po di terra oppure è bastato sta montagnella che non mi piaceva e andiamo la piazzare magari mi faccio pure una zappetta così tolgo prima il moss block andiamo ok devo stare attento e questi ci muoiono qua sotto perfetto ok ragazzi in teoria ho finito ovviamente mi sono dovuto fare altre zappe perché queste morivano ogni due secondi però diciamo che dovrei aver finito vediamo pure questi qua sotto che se no ha fini che poi sparano a bombino e questi vi rompono le balle controlliamo se non ce ne sono rimasti nascosti da qualche parte ma in teoria no eh lo so avevamo messi un sacco poi li ho tolti eh vabbè che vogliamo fa ok in teoria abbiamo fatto ma mi servono dei blocchi d'erba verde che c'ho su sicuramente eccoli qua vado pure a prendermi un po di bomb il e dovremmo essere a posto o in teoria tra un po insomma tra un po di tempo dovrebbero espandersi poi questa cosa qua forse dove sta la campana la cambio un attimo al volo vediamo se c'ho sti cosi eccoli qua se mi fanno usci è affollata quella casa signori che forse è qua attenzione qua ci sta sta roba che la devo togliere facciamo così e così ecco meglio decisamente ok aspettiamo che l'erba cresca allora ragazzuoli l'erba è cresciuta questi continuano a figliare non ci voglio credere ma porca cioè raga mi sta sfuggendo di mano sta cosa perché ho così tanti villager non c'ho tutti questi letti per quale motivo continuano a figliare è un casino qua sotto cioè ne ho veramente troppi ok questa cosa andrà controllata cioè ho perso il conto dei villager che c'ho qua sotto e io sapevo che avevano bisogno di un letto per sponare io non ci ho messo tutti sti letti cioè ce ne saranno 1 2 3 4 5 6 7 solamente qua 8 sta lì 9 sta qua mi vuoi dire che ci sono 9 letti cioè veramente ho messo 9 letti li contiamo cioè non è che ci stanno alternative allora qua ce n'è uno quindi partiamo dalla casa del pozzonaro no del come cacchio si va del libraio un letto qua due letti qua quindi sono 1 2 3 queste 4 ok vediamo 5 va bene 6 questo ho appena sbattuto la porta in faccia e vedi che quello riesce manca a dormire 7 e quanti riesce in un altro 8 lo vedi che i letti sono contati cioè non c'è il letto per questo capite perché perché sei nato tu fammi capire vabbè comunque non importa allora ho pensato visto che l'erba è spuntata magari qualche tor qualche come cacchio si chiama sta cosa qualche lanterna la metterei anche qua da qualche parte così con delle catene per illuminare proprio gli angoletti più bui secondo me ci sta è carina come cosa dovrei avere altre elevati un attimo dalle palle però c'è troppa gente dovrei avere delle altre catene in teoria non è vero mai non è vero mai dovrei avere delle altre lanterne manco quelle che cazzo vabbè vado a prendere un po di roba e finiamo sto villaggio ok ho rifatto un po di lanterne 24 mi sono preso le catene in teoria non mi dovrebbe manca nulla magari questi me li prendo ecco qua fatto scorta di legno raga allora quindi dove sono le mie fans non ce le faccio subito io spero che questi prima o poi la smettano di di figliare perché signori stiamo raggiungendo una sovrappopolazione incredibile qua dentro cioè non c'è più posto ok un po l'abbiamo fatte allora vediamo gli angoli proprio bui bui tipo quassù per esempio proprio molto su una roba così o vedi che carino di io ci metto una forse anche due e poi qua ci mettiamo una bella lanterna e così si illumina vediamo altri posti spersi là è abbastanza illuminato perché c'è la fattoria questo punto c'era luminite quindi è illuminato qua ci abbiamo messo questo qua c'è la lanterna qua pure illuminato è illuminato tutte le parti sono salito a fare sta roba per per il cacchio per una va bene un'altra cosa che avevo pensato che secondo me potrebbe avere senso è ogni tanto mettere stesso per terra delle redstone lamp cioè proprio nella terra che secondo me c'ha senso ora se mi fanno passare questi comunque ne siamo veramente troppi signori è non tantissime giusto un 5 secondo me ci stanno benissimo qua facciamo è vedi che mi spingono pure sti bastardi ma ragà ma siamo veramente troppi qua ma che cacchio sta succede ok andiamo a mettere queste cose ogni tanto tipo che ne so non proprio al centro perché poi magari al centro ci piazzo qualcosa però non lo so aspettate perché sì effettivamente al centro andrebbe avrebbe più senso che almeno il lungo vabbè mettiamo dal centro poi se ci dobbiamo piazza qualcosa spostiamo non è che possiamo fare altrimenti quindi rompiamo questo ecco ci finiamo dentro come dei deficienti va benissimo così dicevo rompiamo questo infiliamo la torcia e ci mettiamo questa qua che illumina tantissimo perfetto la stessa cosa possiamo fare qua tranquillissimamente allora non ce n'era bisogno per lo spawn dei mob perché comunque non sarebbero sponati ma è semplicemente per avere una cosa leggermente più luminosa cioè proprio per per noi dove sta la mia redstone cosa ok è un altro lo metterei proprio qua in questo punto qua allora a questo punto credo che il villaggio sia bello illuminato adesso prendiamo la mano con la bombi allora io metterei un po di bombi qua un po qua non tantissima così proprio giusto un pochino ecco per dargli quel tocco di di vissuto qua secondo me ci sta anche bene qua potrebbe starci anche qua in teoria ok qua sicuramente ci sta tantissimo mettiamone un po qua dietro così anche qua male non ci sta ovviamente non è finito del tutto ragazzi abbiamo iniziato ad abbellire ma poi questo man mano che giochiamo ci verranno idee lo aggiungiamo roba cioè qua io ci volevo mette un sacco di cose utili solo che posso fare una puntata di 27 ore per fare il villaggio e soprattutto non mi è venuto in mente un cacchio da farci quindi per il momento va bene così allora un po d'erbetta non esagerata giusto due ciuffetti quella tanto per riempire ok anche qua io due ciuffetti ce li metto vediamo un po che faccia caccia ok magari un po di meno qua ecco una cosa un po più tranquilla forse un pure qua un po di meno e anche qua allora signori secondo me ci siamo io non vorrei dire nulla ma secondo me questo villaggio è venuto abbastanza bene poi bisognerà redare le case dentro che per il momento non l'ho ancora fatto ma quello ci penseremo qua ci sta il nostro libraio fantastico ma una cosa assolutamente che devo fare prima di chiudere sto video è quella di leva tutte stessi barre perché questi mi hanno rotto potentissimamente le palle per togliere tutti sti barre è un casino perché devo fa 2000 viaggi va bene faremo 2000 viaggi non ci stanno alternative oppure attenzione è venuto un'altra idea molto figa invece di fare 2000 viaggi io sostituisco sti cosi con dei con delle cesto così questi non si emozionano non rompono le balle e dovremmo riuscirci a mettere di tutto allora intanto ci sputiamo l'inventario qua così li levo perché ne ce ne sono troppi c'hanno tutti lo stesso lavoro e non mi sto rincoglionendo quindi io mi auguro che facendo questo giochetto allora intanto le cose mi le mettiamo qua su così dicevo facendo questo giochetto probabilmente mi diminuiscono sti che cosa siete voi i fishermen ok diciamo che abbiamo fatto è mo ce ne sta solamente uno questa possiamo togliere veramente no lasciamola una crafting table da qualche parte o vedi che qualcuno inizia a perdere il lavoro fino a me non vi state figliando di nuovo è io spero proprio di no comunque signore direi che il villaggio per il momento è abbastanza carino ragazzuoli io questo episodio lo fermerei qua spero che vi sia piaciuto vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi